Partiti, terza corsa in programma, premio ipodromo del Casalone, gentleman rider patentati fise sui 1800 metri, quindi Bibibella all'interno con all'esterno Spartivento Chia, si traccheggia per il comando della corsa, che comunque viene presa l'iniziativa da Bibibella con all'esterno Spartivento Chia Ardara, Mosaico, Insac, questo è l'ordine di ingresso nella prima curva, all'ostecato Bibibella, Spartivento Chia, Ardara, Mosaico, Cavalli che si mettono lungo la rete opposta, con Bibibella che mantiene il comando su Spartivento Chia, Ardara, Mosaico, Tre quarti della rete opposta a percorsi, Bibibella che all'esterno Spartivento Chia aumenta l'andatura Ardara, tre cavalli in diagonale ad affrontare gli inizi della piegata conclusiva, con Mosaico in quarta posizione, Insac e Centurione, richiamata la frusta, Bibibella che mantiene comunque il comando della corsa su Ardara, che risale in seconda posizione, Bibibella, addirittura attaccata da Ardara all'esterno, provano la progressione Spartivento Chia unitamente a Mosaico all'esterno, mantiene il comando, Bibibella, Ardara, Mosaico, Ardara, Mosaico che arriva a velocità doppia, Ardara, Mosaico, Bibibella, Ardara su Bibibella, Mosaico, al quarto posto il numero 5, Insac, si attende l'ordine ufficiale mentre il giudice d'arrivo ricorre alla fotografia per il primo posto. Ardara che viene a vincere sul numero 4, Bibibella, autentica sorpresa della corsa a 46,39, la quota sul vincente.